signore e signori e tutti voi all'ascolto buongiorno oggi il 30 di giugno del 2024 a pianoro sta arrivando il tour de france noi invece siamo all'inz stiamo andando a fare un giro sullo zethersfeld perché qui c'è una serie di cache di dieci misteri che io ho risolto non senza poca fatica perché c'è qualche piccolo problema con la lingua erano più che altro dei cifrari da risolvere e in italiano è un conto in tedesco è un altro comunque sono riuscita a risolverle tutte una era un indovinello che ci ho messo qualche giorno a risolvere se avessi chiesto subito al gruppo avis c'è stato qualcuno che me l'ha risolto nel giro di tre secondi e quindi adesso andiamo a provare a cercarle le troveremo non lo so qualche dubbio ce l'ho visto che siamo delle pippe il tempo non è super fantastico potrebbe anche piovere speriamo di no per adesso non piove e va bene così prima cache naturalmente non trovata dopo aver fatto pausa cioccolata perché c'è qualcuno in debito di zuccheri qui parecchio ho trovato una cache che non fa parte della serie delle misteri però almeno una comunque l'abbiamo trovata allora aggiornamento le cache della serie delle misteri ne ho trovata una io una l'ho trovata claudio quindi insomma almeno qualcosa stiamo trovando c'è un albero in mezzo al sentiero siamo infine giunti nel punto più alto del giro di oggi pausa pranzo il problema è che il sentiero dietro di nuovo è chiuso per una prana ora noi tra l'altro avevamo fatto il giro al contrario rispetto a come era pensato ad essere fatto per fare in modo che la parte più pendente farla in salita perché qualcuno ha più problemi a fare in discesa se è molto bene io potrei fare un appunto allora quando da noi c'è una prana tipo botteghino all'inizio della strada di botteghino dicono non andate no non è che ti fanno andare fino alla prana e poi dico torna in dry come hanno fatto qua differenza fra italia e austria ma non è vero e niente quindi adesso tocca tornare indietro però ho visto che allungandola un po possiamo andare giù arriviamo a uberdorf passiamo per turn e torniamo al parcheggio così per evitarci sì per evitarci di dover rifare il sentierino super ripido e in discesa ho lasciato Claudio giù al punto panoramico dove abbiamo mangiato e poi sono venuta qui su perché qua c'è un'altra che esce una tradizione però non c'entra con le misteri che comunque ho trovato come va ad andare giù di qua le ginocchia un po' mi risentono però meglio che il sentiero ripido in mezzo al bosco no somma pausa caffè si ti vuoi rinfrescare siamo arrivati alla macchina tutto bene il giro di oggi è stato impegnativo vi metto l'epilogo di Comottin 3 2 1 no 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 Grazie a tutti.